Elio, immaginavamo una fine migliore? Pure io, mi dispiace da morire, non c'è neanche che dire, mi dispiace, mi dispiace. Però purtroppo sembra banale, ma il calcio, abbiamo sbagliato partita, loro sono stati più bravi di noi, ci è mancato sicuramente qualcosa, perché anche a livello di gioco sono stati superiori, sono superiori un po' ovunque. Senti, ne parlavamo anche prima con i colleghi, anche a livello psicologico, questo Gavorrano aveva tutto per mettervi in difficoltà, considerando anche le esperienze in campionato, è sempre rimasto imbattuta la squadra maremmana nei confronti diretti? No, quello sì, però noi in casa non avevamo mai perso e abbiamo perso la partita più importante, e questo mi dispiace, mi dispiace io per primo che sono uno dei più grandi, un giocatore uno dei più importanti, e mi sento un po' responsabile di questa sconfitta, perché sicuramente potevo dare di più, come tutti quanti, però è andata così e non lo so. E adesso, perché c'è anche un'area di tensione, c'è stata una pesante contestazione anche in tribuna? Quello fa parte del gioco, quando fai bene è giusto che prendi applausi, quando fai male è giusto che prendi fischi o insulti, siamo dei giocatori, siamo abituati e prendiamo quello che ci dico.